Il Parlamento mette la morsa ad Equitalia. La Commissione Finanza della Camera ha approvato una mozione votata alla unanimità che impegna il Governo a escludere pignorabilità e ipoteche sulla prima casa, se questa costituisce l'unico bene. Inoltre propone di dilazionare i pagamenti in più rate. Oggi la legge prevede 72 rate estendibili per altri 6 anni e la sospensione dei pagamenti per 6 mesi nel caso di dipitori in difficoltà, che oggi non è prevista. È una risoluzione votata dalla Lega Nord, nella mia persona come capogruppo della Commissione, ma da tutti gli altri capigruppo, quindi all'unanimità presentata al Governo. È una risoluzione che secondo me è un significato importante perché in qualche modo limita i poteri di Equitalia, che sappiamo sono in certi momenti vessatori nei confronti del contribuente. Riequilibra, invita il Governo a legiferare in questa direzione e quindi a riequilibrare un po' i poteri di Equitalia che certe volte appunto diventano vessatori perché troppo a sfavore del contribuente. In particolare c'è l'invito fatto dalla Commissione, come ripeto l'unanimità, a rivedere ad esempio i tassi di interesse passivi dovuti dal contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute come tributi, che ricordo sono dal primo di maggio superiori al 5%, quindi particolarmente pesanti. La mia proposta, la nostra proposta, ma la mia in particolare è quella di ridurre questo tasso di interesse a quello ufficiale di riferimento che è molto più basso. Poi si impegna il Governo sempre a salvaguardare almeno la prima casa o i beni strumentali dell'artigiano, del piccolo imprenditore, nel caso in cui questi siano indispensabili al proseguo della propria attività, altrimenti questo tipo di pignoramenti e di blocco di beni rischiano di far perdere dei beni vitali come la casa, la propria abitazione o per chi lavora, il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore, i beni strumentali con cui lavorare ogni giorno e gettarlo nella disperazione più profonda. Speriamo che il Governo recepisca, come ha detto la parola di voler fare, e che questo iter sia abbastanza veloce perché il problema è molto sentito e noi ce ne facciamo portavoci in modo molto deciso.